Si intitola Vasco Non Stop Live, è un film music, è un music film che al cinema ci sarà fino al 27 novembre, cioè domani. Dopo il concerto davvero sublime, davvero straordinario, davvero epico, davvero più che convincente di Modena Park, il regista Pepsi Romanov pensa dunque a raccogliere o meglio a raccontare a livello cinematografico tutto ciò che è di bello, di buono e di così favoroso c'è di Vasco Rossi. Un uomo potente dal punto di vista musicale, una voce davvero sublime, epica nel suo genere, che andasse a unire la forza del live a un Vasco Rossi, ripeto, inedito. Ed ecco che è uscito Vasco Non Stop Live, complimenti a Pepsi Romanov, complimenti a Vasco Rossi, il grande cantante di Zocca in Emilia, e al prossimo video da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia.